Questa mattina nella sala giunta del comune di Pordenone, gli assessori ed il sindaco si sono riuniti per seguire un corso di rianimazione cardiopolmonare e per apprendere l'uso del defibrillatore. La lezione è stata tenuta dal personale del 118 e si è sviluppata in due parti, una teorica l'altra pratica, con esercizio sul manichino di massaggio cardiaco e respirazione con successivo uso del defibrillatore. Il comune di Pordenone organizza un corso base di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore e parte dalla giunta stessa, tutta la giunta viene formata con questo corso. Con quale scopo? Intanto formare le persone che eventualmente potrebbero dare un aiuto alle persone infortunate o ammalate. L'altro motivo importante è cominciare a creare una sensibilità della popolazione e a portare l'aiuto alle persone che hanno bisogno. Il soccorso territoriale in Italia viene svolto dal 118. Il 118 può fornire mezzi con infermieri o con medici, dove ovviamente si abbia la possibilità di avere una persona formata, che è l'obiettivo di questo corso. Si può avere un qualche cosa in più, dove c'è la possibilità poi di avere uno strumento come il defibrillatore automatico che non crea nessun tipo di responsabilità in termini di diagnosi perché ci dice cosa fare. Ci parla e ci dice che la scarica nel caso della fibrillazione ventricolare è indicata oppure non è indicata. Comunque il paziente che si presenta incosciente e non respira va massaggiato e quindi il massaggio cardiaco sarà l'argomento forse più pregnante, più ancora che l'uso di questo che è poco più che un elettrodomestico e comunque è autoregolante, sì, in qualche modo.